buonasera amici eccoci a un'altra puntata della nostra trasmissione il salotto di peter e remy abbiamo fatto la puntata zero la scorsa settimana e passiamo quindi a introdurre la prima puntata saluto il mio partner remy che mi accompagnerà durante i prossimi 30 minuti inoltre vi ricordo che siamo visibili sul canale youtube tv riviera 24 iscrivetevi seguiteci e adesso passo la parola remy ecco grazie peter buonasera anche da parte mia questa sera avremmo abbiamo un ospite molto gradito da parte nostra che è venuto a trovarci e ha accettato il nostro invito siamo molto contenti e lo ringraziamo sindora per la presenza per la partecipazione è un ragazzo giovane il nostro ospite di questa sera è cresciuto e vive nel luganese quindi un ragazzo nostrano che però a livello di successi è un ragazzo diciamo se vogliamo dire così internazionale poi ci dirà lui esattamente che cosa vuol dire questo internazionale da dove da dove l'ho preso io il nostro ospite di questa sera si chiama alex fontana buonasera alex buonasera a tutti anche da parte mia ecco benvenuto e grazie ancora per aver accettato la nostra il nostro invito andiamo con la sigla dopodiché le varie domande peter sigla e quindi eccoci cominciamo la serata con il nostro amico alex chiaramente le prime domande sono un sempre le solite nato penso immagino a lugano si a sorengo per la precisione bene perfetto e vivi anche a lugano sono sempre stato a lugano poi viaggio molto ma la mia base è sempre stata in ticino in ogni caso benissimo e so che tu hai cominciato la tua carriera in realtà l'hai cominciata come pilota di gokart dico bene esatto esatto ho iniziato a tre anni e mezzo quindi beh carriera quel a quel tempo era eccessivo però ho iniziato a guidare a tre anni e mezzo sull'isola di rodi però in grecia è stata la prima volta in cui ho guidato e perché mia mamma è di origini greche quindi l'estate si passava lì molto tempo ovviamente mio padre i suoi amici non erano così felici di stare al mare magari per un mese di fila era bello le prime due settimane ma poi nell'isola degli anni 90 non c'era molto da fare quindi avevano trovato una pista di gokart in cui li seguivo ogni pomeriggio dell'isola iniziato ecco bene l'isola era quindi di dimensioni abbastanza notevoli visto che c'era una pista di gokart ce n'erano diversi invece rodi è una delle isole più grandi anzi se non erro è la seconda più grande dopo carretta carretta è di dimensioni che non sembra neanche un'isola in realtà quindi è quasi eccessiva la rodi però è una di quelle isole che effettivamente ti rendi conto di essere in mezzo al mare e la puoi girare rapidamente ma comunque ha delle dimensioni importanti e quindi si sono create poi negli anni tantissime cose da fare dunque abbiamo scoperto che Alex è un pilota, sembrerebbe giusto un pilota professionale e che vive nel luganese ma ha passato anche a parte la sua infanzia nelle isole greche sì non ho mai vissuto lì permanentemente però ogni anno è sempre la meta soprattutto in estate ho tuttora famiglia, la zii, i cugini tantissimi cugini e mia nonna soprattutto quindi questo è anche un privilegio perché passare le vacanze in un paese come Grecia non è mica da niente ecco pensando così alla Grecia e alle varie isole mi viene subito una domanda spontanea Peter la movida in Grecia è cambiata nel frattempo? anche durante la pandemia hai avuto possibilità di avere contatti con qualcuno da quelle parti? la Grecia ultimamente so che ha avuto dei problemi anche a livello politico eccetera per una serie di finanziamenti non ho capito bene cosa è di questo tipo beh la Grecia è sicuramente una di quelle mete che rimane penso tra le favorite per i turisti in generale per chi ama andare al mare in estate perché offre un po' tutto tra la possibilità di fare sport oppure attività di movida piuttosto serali fino a livello culturale anche il geografico è uno dei posti forse più ambiti durante il periodo estivo quest'anno ho avuto la fortuna malgrado tutto di riuscire a fare una settimana così da salutare i parenti però effettivamente è stata una vacanza un po' diversa perché nella settimana in cui ero io i locali chiudevano a mezzanotte ristoranti e bar e discoteca comprese per la Grecia è un orario impossibile perché finisci normalmente di cenare alle 10.30-11 se ti va bene ma andava bene così perché abbiamo semplicemente cambiato un po' lo stile della vacanza ci alzavamo molto prima al mattino e sfruttavamo la giornata nella sua interezza e siamo poi stati due o tre giorni sull'isola di Simi che conta normalmente 200-300 abitanti fissi e forse un migliaio nello stesso momento con i turisti durante il periodo estivo più pieno e quindi lì eravamo un po' isolati quindi durante la pandemia è stata sicuramente una bella location in cui fuggire per un po'. Una domanda allora, visto che tu hai cominciato con Go-Kart a quanti anni hai partecipato veramente alle gare di Go-Kart? Proprio quelle di un certo valore? Diciamo che nella categoria Puffo o Bevia, Dipendenza delle Nazioni e il modo in cui la chiamano ci sono soltanto delle dimostrazioni ma mai delle gare vere e proprie le prime corse ufficiali quindi magari del campionato svizzero iniziavano attorno all'età dei 7-8 anni per cui sono le prime a cui ho partecipato. Sì è comunque molto presto però in realtà anche negli altri sport alla fine si inizia a fare un po' delle competizioni tra virgolette reali organizzate e magari appunto titolate attorno a quella fascia di età. E come si fa poi da lì ad arrivare a fare pilota comunque di categorie di automobili piuttosto avanzate? È difficile, come in ogni sport a livello professionistico ci sono diversi ostacoli nell'automobilismo ci sono sicuramente gli ostacoli in primis che sono la parte finanziaria perché al di là che un tesseramento per giocare a pallone, le scarpette piuttosto che spendendo un po' di più le racchette spendendo un po' di più gli sci eccetera eccetera l'automobilismo salta via tutti questi sport e si triplicano i costi se non addirittura di più. Il kart comunque offre ancora la possibilità di iniziare perlomeno da piccoli senza cifre impossibili magari prezzi più alti che se semplicemente si gioca a calcio però ancora gestibili soprattutto sì perché è uno sport che comunque quando si è piccoli si trova la facilità di avere dei contributi degli aiuti anche simbolici dalla famiglia, dal nonno, dallo zio, dall'amico del papà eccetera eccetera dal paderino quindi si riesce ancora ad andare avanti in aiuti di questo tipo è chiaro che da lì in avanti soprattutto per le gare internazionali già di go kart al giorno d'oggi i prezzi sono saliti come in tutta la vita quotidiana i prezzi sono aumentati per qualsiasi cosa anche l'automobilismo e il kart che dovrebbe rimanere qualcosa prettamente giovanile diventa perso un po' il controllo perché la ricerca della velocità, dell'affidabilità, del professionismo ha fatto sì che anche i team che prima magari potevano essere formati da me l'amico di mio papà come meccanico e mio papà come team manager adesso sono team con magari tre meccanici, due ingegneri, team manager, team owner e quanta il spotter e non finisce più e quindi sono tutti i costi che hanno aumentato il pilota non ha più un go kart o un motore ma cinque telai e trenta motori quindi per andare ancora più in concreto io per esempio come tu Peter sai sono miei nipoti mio fratello che corrono tutti a go kart all'età dai 12 anni fino ai 17 anni più o meno ma ci sono anche tanti ragazzi che io conosco che vengono anche a Magadino a correre assieme a mio fratello e i miei nipoti i miei figli ecco come si comincia qual è la strada per questi ragazzi per cominciare piano piano prima insomma nel piccolo loro giro a farsi vedere che sanno un pochettino di più oppure che riescono a fare qualcosa in più per poi arrivare piano piano a crescere a costruire una carriera eventualmente io credo che una cosa che ha funzionato bene per quanto concerne la mia carriera e questo devo soprattutto a mio papà era il fatto di rendersi conto quanto i media fossero importanti perché alla fine ha lavorato da subito su comunicati stampa sul fatto di promuovermi allora non c'erano i social network ecco per intenderci però attraverso comunicati stampa attraverso la promozione sui giornali piuttosto che le piccole interviste che magari si possono fare ai ragazzini che fanno qualcosa di strano cose del genere sono tutte tutte attività che hanno cresciuto un pochino almeno la mia notorietà localmente e questo pochino ha fatto sì che fosse più semplice trovare quel contributo di 500 franchi dall'azienda locale piuttosto che dello stesso paese e quant'altro e quindi una cosa dopo l'altra è stato sempre un crescendo sponsor che magari prima davano 500 davano qualcosina di più e magari dopo dieci anni avevano decomplicato il valore come anche le categorie in cui corressi quindi dal go kart magari passavo in formula 3 e quindi a quel punto si cresceva sempre di pari passo trovo che le persone che hanno più difficoltà di tutte siano quelle che abbiano tralasciato completamente la cura della loro immagine promozione personale dal principio e a un certo punto per fare il salto si siano ritrovati con uno scalino di budget impossibile senza nessun background di finanziario di contributi e di aiuti quindi insomma è importante essere bravi come pilota ovviamente metterci passione avere un po' di talento chiaramente anche tanto lavoro ma anche importante tutta l'altra parte dunque di marketing e di promozione credo proprio di sì perché comunque chiedendo un supporto che può essere economico può essere di qualsiasi altra cosa come anche una palestra magari ti sponsorizza l'abbonamento annuale per andare ad allenarti è un costo per dire il trasporto è un costo l'abbigliamento l'equipaggiamento da corsa per il pilota è un costo sono tutte cose che magari persone non ti aiutano direttamente con del denaro ma ti possono aiutare con tante altre cose ma in ogni caso chiunque sia la persona che tu chieda 100 franchi o un milione se quando busti alla porta non hanno mai sentito il tuo nome sei già insalito invece se già sapevano chi tu fossi per quanto possa essere insignificante magari soltanto perché c'è un articoletto minuscolo così sul giornale perché avevi fatto un assist un rigore fatto bene nella categoria non so in quarta lega io non sono un esperto però invento piuttosto che l'amico dell'amico dell'amico ti ha sempre trovato simpatico e ti ha visto giocare e ti ha apprezzato e che lo dica alla persona giusta è un bravo fiore per dire ecco che comunque da quello che so io la famiglia fontana nel tuo insieme è comunque una famiglia interportiva io penso a tuo nonno tuo nonno era presidente per esempio dell'arte di lugano che poi tra l'altro è stato anche il fondatore della tipografia fontana e quindi anche anche tuo zio ruben ruben fontana è il giocatore del club lugano lo conoscono tutti almeno in piccino lo conoscono tutti ma anche oltre altre è una famiglia molto sportiva assolutamente direi che sicuramente è partito già da mio nonno appunto fondando il rap in lugano appassionatissimo di calcio mio papà ha questa passione del calcio ogni tanto vado con lui a vedere magari il lugano però lui guarda penso qualsiasi campionato possibile aveva tre televisori in caso ognuno ha una partita diversa più la radio sportiva anche e però ho avuto anche la passione dell'automobilismo mio zio ha giocato in serie a ad hockey con grandissimi risultati e ha anche allenato in un'unica partita penso che abbia al cento per cento in percentuale di successo come allenatore perché allenò lugano per una partita solo sola contro l'amberia e vinse e quindi sicuramente ha fatto tanto per l'hockey luganese ticinese dopo di lui però non sono stato soltanto io in ordine di età ma anche mio cugino colin mia cugina kim quindi figli di ruben che hanno giocato colin gioca tuttora capitano dei rockets in serie b ha giocato anche in serie a e kim è stata campionessa svizzera under 18 di tennis quindi mia sorella ha preso invece tutti i cervelli nostri che si sono dedicati allo sport e sommati in uno ed è psicologa quindi lei non ha fatto la carriera sportiva ma piuttosto accademia bene bene ecco le tue prime gare quelle competitive quelle vere dove c'era un qualcosa da vincere era abbastanza scarso credo che la prima gara arrivai quarto era una gara è una gara club sicuramente il più giovane in quella gara arrivai quarto su quattro quindi a 7 anni a 7 anni poi per le prime gare di campionato svizzero dove eravamo già in 40 non credo che mi qualificai nemmeno per la finale a dire il vero perché si qualificavano i primi 34 e le prime gare le prime gare fuori dal cantone insomma o addirittura fuori svizzera sempre campionato svizzero per quanto concerne fuori dal cantone e invece le prime diciamo che la svizzera non ha mai avuto tantissime piste quindi comunque si andava già fuori dalla svizzera anche per i campionati svizzeri correvamo in francia in germania in italia però le prime gare le prime gare invece internazionali sono state nel campionato francese tedesco che per noi era non plus ultra perché nella categoria di un orris lì anziché avere 25 30 kart che in svizzera erano tantissimi in una categoria lì magari si passava a 60 70 e bisognava qualificarsi in tutte le manche eliminatorie fino fino in finale ci sono guardando le classifiche ora vedi dei nomi che magari al tempo non ti dicevano nulla era soltanto un avversario in più che non avrei mai sentito nominare arrivando al campionato svizzero ma che andava magari bene in quei campionati adesso lo vedi magari in dtm piuttosto che in altre categorie o in indicare una curiosità che ruolo gioca il peso di un pilota come te adesso il peso il suo peso diciamo nell'uso della macchina cioè che importanza ha sul peso totale vettura pilota il peso del pilota ma nel kart sicuramente sicuramente tanto mi ricordo benissimo per fare nomi comunque di piloti che conosciamo le nostre latitudini come stefano comini kevin gilardoni piloti che in kart erano già molto grossi come ragazzini nel senso di statura di peso erano già massicce quindi magari andavano molto bene in alcune categorie finché erano ancora piccolini ma poi crescendo hanno iniziato a perdere un po' di di prestazioni anche se in realtà erano sempre molto bravi però ovviamente erano svantaggiati un po' come dei fantini no quelli più piccoli alla fine guadagni e poi passando in auto invece tornavano a essere piloti da prime file perché sull'auto contava di meno è chiaro che in componenti in categoria come la formula 1 dove il dettaglio va veramente molto più in profondità dove si contano i grammi il pilota può può fare differenza sul peso ma siccome obbligano tutti più o meno a stare in un range non cambia tantissimo sulle macchine gran turismo i pesi sono maggiori le macchine sono stock un po' per tutti e siccome dividi l'abitacolo con altri piloti cercano di fare una media tra i tre in modo da più o meno e eguagliare tutti quanti per cui non cambia tantissimo ecco alex adesso ci spostiamo un attimino a sud andiamo in asia tu attualmente corri in non solo naturalmente ma specificatamente in asia per anche anche per dei team che usano mercedes invece i campionati gt differenti diciamo che corrono sempre anche in europa ma ho iniziato a spostare dal 2016 a oggi finché si poteva andare la mia carriera anche in asia per aprimi un mercato maggiore io mi sono mi sono marcato un paio di cose dunque tu hai vinto il secondo titolo mi sembra con la chia w1 esatto il 16 dicembre del 19 come campionato costruttore esatto poco dopo aver vinto invece il china gt e quello l'hai vinto con la kia con la kia si il city si si ok dopo hai vinto anche il gt4 china championship giusto esatto si nel novembre del 20 quindi siamo novembre del 19 scusami si esatto e hai vinto la quattro ore di porti mao giusto nella prototipi lm ho corso ho corso non l'abbiamo non l'hai vinta ma ho corso come wildcard diciamo come capitano come invitato esterno si 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 per aiutare un team che aveva difficoltà e quindi sono stati per sviluppare la macchina e quindi in europa con quale vettura in europa ho corso una gara con i prototipi poi invece fatto il gt war challenge endurance che il campionato europeo più prestigioso per i gt che intende la 24 ore di spa con una merce de saint di spa in belgio con una merce de saint g ok bene allora io invece peter vorrei cominciare a fare qualche domanda magari un po meno sportiva diciamo così ma piuttosto personale anche perché il nostro format vuole ecco alex tu sei un ragazzo giovanissimo quindi non so sei sposato e una ragazza una ragazza si non sono ancora sposato quindi vivi qui a lugano si si vivo qua lugano lei invece in italia di seregno però a breve in svizzera e tutti e due siamo viaggiatori diciamo per così dire ok e per le vacanze preferisci il mare o la montagna ma a prezzo entrambe anche se ho all'inestato la tendenza ad andare al mare per il semplice fatto che vado sempre a rodi in grecia perché riesco almeno a visitare anche la famiglia di là che non è come andare ad atene che ci sono voli ogni giorno ed è facile da raggiungere rodi un po più difficoltosa quindi in estate cerco di stare un po la per vedere la parte di famiglia che non vedo spesso dunque la scuola l'hai fatta lugano si 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 era la scuola media pregassona e poi invece la parte diciamo di scuola superiore a bellinzona alla commercio eri alla commercio eri un ragazzo piuttosto problematico eri un ragazzo invece meno problematico è quello di quelli che si chiamano secchioni ancora allora lui in pratica ti sta dicendo eri bravo così così o non parliamone diciamo che ho fatto i primi due anni così così barra non parliamone nel senso non perché fossi un casinista o cose del genere ma con tutte le assenze accumulate per l'attività sportiva facevo fatica a rimanere al passo praticamente lunedì e venerdì non ero mai a scuola di solito e quindi ho fatto molta fatica mi hanno aiutato anche tanto i professori e comunque i consigli di classe per i primi due anni poi maturando anche un po sono riuscito a organizzarmi meglio e alla fine ho finito abbastanza bene la quarta superiore per cui malgrado che mi sia portato indietro molte lacune a livello matematico ero bravo invece sulle lingue sulla comunicazione quindi compensato vabbè quello penso che vale per tutti la stessa cosa io non credo che ci siano personaggi che sono bravi in tutto è abbastanza difficile comunque no? ognuno ha le sue calcio ok se dovessi proprio scegliere così a bracciapello forse direi ok nel senso se mi mettessi un po' nei panni di un possibile ragazzino che non ha mai visto un'auto da corsa e non ha mai avuto la passione di un'auto da corsa e dovessi scegliere giocare ok tra i due per cui direi che sia ok bene io Peter questa ormai non la posso non la posso non fare è il momento della barzelletta noi all'interno del nostro format abbiamo un certo punto la domanda o insomma chiediamo al nostro ospite di raccontarci una barzelletta che ci racconti Alex? non sono mai stato bravissimo devo dire con le con le barzellette credo che dovrei pensare magari ci pensiamo durante la trasmissione ci penso e se mi viene in mente ci ritorniamo perché devo essere onesto forse ho il mio senso dell'umorismo probabilmente ma non sono mai stato un grande sei il tipo del british? oratore da sono uno di quelle persone di solito che parla poco ma se parla allora butta lì però non direi che sia un dark humor no non direi british però non sei un ragazzo timido per lo meno per quello che riusciamo a conoscerti adesso timido non credo però diciamo che alterno momenti da introverso e stroverso diciamo a dipendenza della situazione preferisco ascoltare che parlare di solito però normalmente se parlo è per dire qualcosa non parlo mai a vanvera o a spallocchio leggo? leggo molto sì leggo molto leggo molto forse mi è stato tramandato da mia papà che è poco editore però sì direi che leggo parecchio alterno anche lì momenti dove leggo molto e meno a dipendenza dei viaggi cerco di avere sempre un libro con me nei viaggi che faccio sono più un tipo da cartaceo e non da kindolo cose classico sì esatto per cui anche se sono 1200 pagine me lo porto in viaggio lo stesso ecco c'è un pilota professionista giusto? è giusto sì quale potrebbe essere stato un'altra professione se per caso la tua carriera non avrebbe preso questa piega? è un'ottima domanda direi che sicuramente il dubbio mi sarebbe già venuto dopo le scuole superiori se scegliere di studiare qualcosa buttarmi subito nell'attività lavorativa sicuramente mi piace la comunicazione mi piace anche la letteratura anche se però non vedo un particolare utilizzo di fare 3-5 anni di letteratura in università perché l'insegnante non sarebbe la mia vocazione probabilmente e di conseguenza non vedrei un'utilità nello studiare letteratura per quanto possa piacermi mi piace sicuramente molto anche l'indirizzo che ha scelto mia sorella di psicologia però non è detto che io sia portato per la cosa però mi sarebbe piaciuto ma poi si è prefamma se è con ragione non si sa mai non si sa mai sicuramente continuare anche l'attività di famiglia sarebbe bello perché come hai detto bene è stata fondata da mio nonno credo che anche se magari la stampa e la carta è vista come una cosa che non è più del tutto d'attualità con la multimedialità che abbiamo al giorno d'oggi credo che offra ancora moltissimo e abbia tantissime possibili impieghi ci siano tantissimi altri settori che ruotano attorno alla tipografia che possano essere interessanti nello sviluppare di conseguenza io penso che quello che lui dice adesso io lo vedrei più in ottica giornalistica cioè il giornale no? il giornale cartaceo ecco quello sono d'accordo con te probabilmente non veda un grande futuro in quel senso ma voi producete altre cose infatti ho detto che sembra che sia così ma non è quello che noi pensiamo credo perché libri comunque di qualsiasi genere sono comunque richiesti ancora tantissimo assolutamente anche se in realtà il mercato principale tipografia non è tanto un libro che lo fanno piuttosto per lasciare qualcosa ai posteri pubblicare libri soprattutto sul territorio e dare comunque l'immagine di editoria e di portare un messaggio anche culturale del nostro territorio in avanti però il core della tipografia è sicuramente piuttosto quello che serve alle aziende alle aziende della carta intestata piuttosto che rebute piuttosto che queste cose poi sicuramente anche riviste eccetera dunque tu hai avuto la possibilità di viaggiare abbastanza in questo senso soprattutto perché appunto hai una professione che ti permette di essere obbligato a viaggiare insomma che cosa ti piace particolarmente del canton dc mi piace soprattutto il territorio nel senso siamo magari più piccoli rispetto ad altre zone alti territori del mondo che ho visitato ma la natura e la costruzione stessa la nostra geografia mi piace molto mi piace il fatto che ti guardi attorno e ci sia sempre un picco una collina una montagna da vedere non ti senti in uno spazio confinato piatto dove non hai punti di riferimento mi piace il fatto che si respiri un clima comunque estivo rispetto al resto della Svizzera perché comunque sono piuttosto di mare il fatto di poter salire su un picco di montagna ma allo stesso tempo in estate sentirti in un luogo quasi marittimo mi piace perché è una versatilità che secondo me su 365 giorni all'anno paga e questa è la magia del nostro cantone e poi il fatto che comunque ci siano città come Lugano che è a misura d'uomo poi sicuramente ci sono sempre un sacco di polemiche potrebbe essere meglio lì potrebbe essere meglio là però alla fine direi che è un posto fantastico in cui vivere perché non manca assolutamente nulla e questo fatto che comunque si elevi a città come una metropoli ma non lo sia in realtà a me piace perché fare fatica stare a Shanghai o a Milano o a Londra a me piace il fatto che in 20 minuti l'attraverso tutta a piedi però ho tutto ma allo stesso tempo si pone come una città e non come un villaggio visto che stiamo parlando di viaggi certo che la domanda forse adesso è difficile da rispondere però a me piacerebbe sapere quante ore passi tu su un aereo perché io ho un po' visto la tua carriera degli ultimi anni la risposta giusta è troppe ecco per l'appunto diciamo che ho dovuto crearmi comunque una routine perché soprattutto negli ultimi anni in cui sono andato tanto in Asia per esempio l'anno scorso ho 15 volte distinte quindi è impegnativo ho dovuto crearmi una routine perché sei molto solo con te stesso viaggiando senza accompagnatori eccetera fai tantissime ore, tantissimi scali, tantissimi momenti morti e quindi ho dovuto creare un po' una mentalità anche per farlo e far sì che passasse in modo più agevole possibile sicuramente ho sempre dei libri con me ho sempre tantissime ore di telefilm e quindi cerco sempre di iniziare una nuova serie televisiva che mi appaghi moltissimo prima di viaggiare perché così sono così contento di poter iniziare un nuovo episodio che invece se sono lì e ho qualcosa che non mi piace e ho solo quello da guardare passa molto più lentamente lo vedo molto in forma ebbene qual è il tuo piatto preferito Alex? mangio tutto infatti la mia ragazza per scherzare dice che sono noi ci chiamiamo cicciosi no? così perché mangiamo sempre un sacco di dolci accidenti e quindi chiediamo sempre cerchiamo qualcosa di ciccioso da mangiare parliamo sempre in questo modo ci piacciono i dolci e ho diciamo la fortuna di poter mangiare più o meno quello che voglio e dico più o meno perché sono intollerante al lattosio quindi anzi allergico serve più giusto per cui è impegnativo soprattutto nell'ottica dei viaggi e soprattutto nell'ottica del fatto che mi piacciono i dolci per cui non è evidente però mangio di tutto mi piace la cucina sia quella local quindi proprio strana le nostre latitudini mi piace andare nei grotti alla prima occasione ci vado e mangiare le cose più semplici possibili allo stesso tempo però guardo volentieri a nuove cucine mi piace variare mi piace mangiare la cucina locale di ogni posto che vada a visitare compresi ho provato piccioni lingue di rana cose strane in Cina però si vede che come quando io posso portare qualcuno in un grotto magari non svizzero non italiano non ticinese a mangiare magari una Luganiga per dire una Luganighetta nostra la gazzosa al mandarino e portare un cinese e con entusiasmo mostrarglielo loro capisco che hanno l'entusiasmo Sai che hai anticipato la mia domanda? Ecco Cazzola o in voltino di primavera? eh eh immagino che dipenda dall'umore ah direi che sia dall'umore direi di sì dall'umore dal mood diciamo per dire una parola in inglese di quel momento perché come detto posso anche con la mia ragazza magari cuciniamo noi anzi sarebbe più giusto dire cucina lei perché è più brava assolutamente di me a fare magari ravioli al vapore asiatici vegani però perché lei è vegana e quindi con la carne che però non è carne e però con una magari con la salsa di soia un piatto che è prettamente asiatico sì e poi magari il giorno dopo come detto andare a mangiare le puntine o la cinoaspe ecco ecco ti ricordi ti ricordi un qualche anetodo interessante che ha marcato un po' la tua carriera o qualcosa non so qualcosa che è successo durante le tue gare durante un viaggio che ti ha fatto ridere ti ha fatto in qualche maniera ti ha fatto non so è un momento divertente nella serietà che è la gara la carriera ma credo che ci siano tantissime aneddoti di questo tipo ricordo bellissimi viaggi magari in auto con piloti che magari ti capitava di approntare in gara e quindi l'avevi sempre visto come un avversario e non andavi assolutamente d'accordo perché lo guardavi e dicevi mi sta sulle scatole assolutamente non ci parlerò mai e poi per una questione di circostanze ti ritrovi a condividere l'auto a noleggio per andare da una pista all'altra no? scopri che in realtà è un ragazzo simpaticissimo e pensando indietro magari non ci hai parlato per due anni in cui hai corso nelle stesse categorie e quasi ti odiavi e poi magari adesso è un amico che hai da dieci anni di carriera per dire quindi sono sicuramente questi aneddoti che ti porti dietro perché alla fine per un ragazzo come me che ha fatto tutta la vita soprattutto questo tante altre cose ma soprattutto si è dedicato all'automobilismo prima gocarta le auto dopo il fatto di avere da parte comunque ricordi che non siano soltanto guidare una macchina una pista ma il viaggio le persone le trasferte il cibo o qualcosa che hai visto è forse quello che rimane di più nella vita perché tra vent'anni, trenta, quaranta mi piacerebbe guardare indietro e dire ho vissuto tante cose non è che dopo scuola mi buttavo su un go kart poi tornavo a scuola e ho guidato tutto il tempo senza fare nient'altro Remi io ho una domanda interessantissima per l'Orphite vai abbiamo gli ultimi due minuti allora auto ibrida o elettrica per un pilota come te? direi che al momento sono ancora piuttosto sull'ibrida nel senso che non sentire del tutto il motore ancora mi crea qualche problema ma in realtà la situazione è anche molto più semplice quella di oggi io sono un appassionato di auto americane no? quindi di default dovrei dire benzina, rumore, casino, storico e tutto il resto schifo no? in realtà non è così penso che un pilota vero per me gli dai quattro ruote e guida il più forte possibile con qualsiasi cosa sia se tocca per terra quattro ruote non importa che motore abbia potrebbe esserci un razzo nucleare e comunque sarebbe automobilismo secondo il mio punto di vista e di conseguenza se si dovesse andare sull'elettrico andremo sull'elettrico però se potessi scegliere l'auto attualmente dovrei per forza essere sincero e dire benzina e ibrido elettrico nel senso che probabilmente non sono ancora psicologicamente pronto per lasciare indietro i motori anche perché sono sempre stato appassionato di corse auto storiche quindi è normale Alec torniamo alla barzelletta allora ci hai pensato? ci ho pensato e come avevo accennato in precedenza diciamo mi è venuto in mente ho cercato di pensare come mai non mi viene in mente una barzelletta diciamo e come dicevo prima è perché probabilmente anche da bambino non ero il bambino simpatico che aveva tutte le barzellette nel repertorio le elementari c'era sempre qualcuno di più brillante in quel senso e probabilmente crescendo sono rimasto uguale però un aneddoto comunque divertente che mi viene in mente dei viaggi in Asia e ci stare collegarmi in Asia perché comunque per il futuro sarebbe sicuramente qualcosa in cui vorrei tornare nel limite del possibile a livello sanitario a situazione globale è sicuramente una delle prime esperienze avute là perché comunque molto spesso vengono a prendermi all'aeroporto con l'autista ti portano gli hotel più belli che trovano e alterni delle serate in cui cercano di impressionarti portandoti magari al 55esimo piano di un grattacielo col cameriere stanza privata eccetera e mangi delle cose delle prelibatezze che hanno anche dei costi impossibili e quindi tu pensi che quello è quello che si paga tanto anche i ricchi cinesi spendono tanto per mangiare e i posti costano tanto e hanno questo aspetto e invece ho imparato che non è così perché per loro il posto non conta assolutamente nulla non importa sia bello pulito siano gentili non siano gentili conta soltanto il cibo e quindi da una sera in cui sei al 55esimo piano il giorno dopo ti possono portare in una in un praticamente una stalla in uno scantinato una stalla col pavimento di sabbia il tetto che cade e l'asciura in grembiule bucato che ti serve i piatti col mestolo con cui lo stesso comunque ho cucinato e per loro è esattamente la stessa cosa perché l'importante è la qualità e il sapore del cibo e quindi il pregiudizio che io ho avuto all'inizio in cui magari mi dicevano ti portiamo a cena e mi aspettavo un posto del genere e invece trovarti di fronte tutt'altro ti ha fatto capire quanto il mondo sia invece vario e grande e quanto a volte ci limitiamo a focalizzarsi sulle stesse cose e avere la mentalità molto più chiusa e l'ho citato come aneddoto divertente perché in quel momento ho riso quando mi sono trovato davanti a quel posto ho detto non avevo capito assolutamente niente ecco dunque anche gli asiatici danno l'importanza soprattutto a quello che è la sostanza piuttosto che a quello che è la forma il contorno e anche noi apprezziamo tantissimo quello che è l'aneddoto piuttosto che la vargeletta volentieri siamo arrivati alla fine di questa trasmissione abbiamo passati questi momenti graditi in maniera piacevole maniera velocissima tra l'altro velocissima, io veramente ringrazio Alex di cuore per aver accettato l'invito di essere presente questa sera ma anche di aver regalato alla nostra trasmissione tutte queste informazioni che prima noi non sapevamo tante nuove stazioni anche io dunque cari amici telespettatori io con l'amico Peter vi invitiamo alla prossima trasmissione dove ci saranno a seguire ogni settimana diversi ospiti di diverso spessore che avranno sempre da raccontare e quindi la nostra trasmissione sarà come questa sera piena di sostanza piuttosto che di forma e di dettagli seguiteci sul nostro canale youtube tv riviera 24 e in tutti gli altri social che noi abbiamo buonasera e alla prossima arrivederci ciao 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 ciao